La fede davvero sta scomparendo? La fede cristiana, cattolica è davvero scomparsa? Beh, la risposta non può che essere negativa se noi prendiamo in esame quelli che sono i dati. Vediamo che le persone che si dicono credenti, che si dicono cattolici in Italia ci sono e sono ancora tanti nonostante la secolarizzazione compiuta di cui molti parlano. Ma in realtà il problema è un altro. Che cosa vuol dire fede scomparsa? Scompare forse o rischia di scomparire quello che noi possiamo chiaramente sapere, definire, vivere per quanto riguarda la fede. Cioè confondiamo spesso la fede con qualche cosa di diverso. Sto parlando della fede religiosa, sto parlando della fede cattolica. La confondiamo con la superstizione, la confondiamo con una pure semplice credenza, la confondiamo con l'espressione di un'opinione messa sullo stesso piano di altre opinioni. Ecco, la fede cristiana non è questo. Ed è questo ciò di cui ci dobbiamo in qualche modo riappropriare. È questo ciò che dobbiamo recuperare. Capire anzitutto che cos'è la fede. E la fede, detto veramente in maniera veloce, è l'anticipazione di una dimensione di senso che noi accogliamo perché ci riguarda personalmente, non qualche cosa che noi costruiamo o che noi poniamo, come molti peraltro credono. E poi una volta capito che cos'è, davvero provare a calarla, viverla, è della cosa più difficile, viverla nelle nostre realtà quotidianamente. E questa è una grande sfida davvero per l'oggi, per tutti i cristiani e anche per tutti gli uomini di buona volontà. La dimensione digitale incide moltissimo sulla nostra realtà, sul nostro modo di stare al mondo e quindi incide moltissimo anche sul modo in cui viviamo e la nostra esperienza religiosa. Questo anzitutto perché le piattaforme non sono neutre, neutrali. Ciò che ci viene offerto dalle tecnologie in qualche modo, per quanto riguarda i nostri pensieri, li forma, li plasma, ha tutta una serie di conseguenze. Lo abbiamo visto per quanto riguarda l'esperienza religiosa durante la pandemia. Le nostre relazioni, quelle relazioni faccia a faccia, quelle relazioni incarnate sono diventate spesso relazioni per immagine, relazioni virtualizzate, relazioni disincarnate. Il che è stata una cosa preziosa perché altrimenti ci sarebbe stata l'alternativa dell'interruzione di queste relazioni. Ma dall'altra parte quella che ci è venuta a mancare è la presenza, la presenza reale, costante. E allora qui insorge il problema che vale anche per l'esperienza religiosa. La sostituzione invece che l'affiancamento e il potenziamento, la sostituzione di ciò che è offerto dalle tecnologie rispetto invece a quello che noi possiamo vivere nella nostra realtà con il nostro corpo nella nostra carne.